Oh Giorgia, ti prego, quanta bellini si stanno facendo! E poi si lasceranno adesso dentro la nazione. Ma cosa? Ti prego, lascia questo film che andiamo a com'è. Andiamo su. Ah, questo, questo, questo. Mi fa un po' favore a questo, Giorgia. Eh, vedi, ora lo scudello. Ma il capo ti prego? No, per favore, Marta. Ma Giorgia, ti prego, ti prego. Volevo vedere. Ah, per favore. Guarda, ma ho un occhio qui, non lo posso più. Per me è vero. Per favore, cambia. Io questi li capisco. Giallo, giallo. Questi li capisco. No, siamo già arrivati alla fine, hanno scoperto l'assassino. Io l'avevo in vita, se fosse lui. Ho già visto. È lei, è la sorella. È in galera, ha le manette, Marta. Lo cambiamo un attimo. Lui è troppo pompo. Mi fa sentata l'esame. No. Ma buffo. Vieni a ridere. A me proprio prendiamo. Divertente. Non possiamo cambiare più in questo. Ok. Di un fattolino, di un fattolino. Di un fattolino, per favore. Non sono da bambini, eh. Ma messaggi importanti, va bene. Per favore, cambia dai. 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 Ma quello vissuto di rosa, quello di blu, arancione. Cosa cambia? Per favore, no. Cosa vuoi? No, non vuoi più. A me ce la guardavo. Dove c'è no? Ma sempre potente, perché vuoi? Cambia. Dai. Noi. Ciao, ciao.